faccia qualche domanda subito che lavoro fai o vorresti fare? vorrei fare paraclutismo o fare informatica nel mondo appo insegnare bambini dell'elementare fare l'insegnante ci sta mantenuta e basta mantenuta sarebbe un'altra opzione ma non è un lavoro mcdonald o burger king? mcdonald mi dispiace perché ci sono le offerte e mcdonald è più controllato di burger king? mcdonald anche per me hai mai dormito con un ragazzo barra ragazza cioè se tu sei un maschio con un maschio se io sono una femmina con una femmina io sì ho dormito con fmt 01 ma non è successo niente precisiamo no 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 sì pigiama party mare o montagna? dipende mare c'è più colore montagna sei inverno e non schifo ma puoi fare tre cinque puoi far vibrare il telefono relazione più lunga che hai avuto? cinque mesi le state aspettando la mia risposta è due lunghissimi anni il mio peggior incubo? sì essere buttata nel vuoto o stare sul vuoto perché il vuoto mi fa paura e no grazie sia sotto il vuoto totale che col pavimento è sotto il vuoto c'è il pavimento che si vede sotto ed è vuoto quindi se io prendo un sacchetto te lo metto in testa e ti metto sotto il vuoto no diresti la prima cosa che ti viene in mente? chiappe chiappe la prima cosa che mi viene in mente è che sto pensando alla prima cosa che mi viene in mente miglior frase che abbia mai sentito? la vita non ha senso semplicemente se non ce n'è dentro non ne viene fuori il primo soprannome che ti hanno dato? bagiglio penso che sia stato patata rock or rap rap prima di tutto hai mai bevuto super alcolici? in classe la vodka con il sambuco ho assaggiato la vodka e la fragola l'eredità o reazione a catena? l'eredità? nessuno dei due carlo conti o gerry scotti? gerry scotti tv o youtube? youtube perché puoi guardarti anche la rai in live streaming quindi è uguale pioggia o neve? allora devo dire la sincera verità perché se piove ti bagni e ti asciughi però neve no perché se no mi bagno mi congelo e mi asciugo quindi meglio pioggia quante volte hai fatto after? tutto il giorno tutta la notte una volta in germania solo una una volta in germania e ho fatto 36 ore in piedi io l'ho fatto un paio di volte tipo ai pigiama party allora noi chiudiamo questo video grazie arrivederci buon natale e arrivederci ciao pretendo almeno quanti quanti 15 milioni di like più iva a credito 15 like 15 like ci arrivi sì ok 15 like per avere un nuovo video con me Grazie.